Ciao ragazzi, un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, vi devo dare alcune notizie per quanto riguarda il Milan che sono uscite fuori in questi giorni. La prima è una buonissima, una stupenda notizia, nel senso che Sandro Tonali è recuperato, ci sarà contro l'Atalanta, credo anche che giocherà da titolare. Abbiamo visto che i crunici contro l'Udinese non si è comportato male, ma Sandro Tonali è un'altra cosa. Quindi secondo me, e non solo secondo me, credo, il titolare deve essere lui. L'altra notizia è quella che riguarda Indica, nel senso che sapete tutti che il Milan è interessato a questo giocatore, il Milan lo vuole, però Indica sembra essere interessato a restare un altro anno in Germania perché vuole andare via a zero. E sappiamo tutti anche che in questo periodo ci sono tanti giocatori che vogliono andare via a zero, come è successo anche a noi per ben due volte con Donnarumma è che sì. Dalla Germania dicono che è arrivata all'entrata francoforte un'offerta di 15 milioni di euro da parte del Milan. E quindi sembrano sicuri che il Milan abbia fatto questa offerta, che il Milan stia tentando a tutti i costi di portarlo a casa. Per quanto riguarda i giornali italiani non risulta nessuna offerta da parte del Milan per Indica, ma risulta invece che Paolo Maldini abbia contattato personalmente il giocatore per dirgli di venire a Milano. E insomma vedremo come andrà a finire questa trattativa qui per portare Indica al Milan. Dicono che sia un giocatore forte, io non lo conosco, non seguo l'entrata francoforte, ma dicono che sia un giocatore veramente forte. Non c'è solo Indica per quanto riguarda i nomi per la difesa nel Milan, ma c'è anche Diallo del Paris Saint-Germain, che viene valutato a 15 milioni di euro, il Milan vuole strappare un'offerta al PSG, un prestito con diritto di riscatto. Il PSG invece vuole essere sicuro che il Milan prenda questo giocatore a fine stagione, perché al Paris Saint-Germain è considerato un esubero e non è nei piani di Galtier. E quindi vedremo come andrà a finire. Mi auguro solamente che un colpo in difesa lo facciamo, perché è importante che si faccia, ecco, perché dietro siamo un po' corti, nel senso che Gabbia non dà a mio avviso quelle garanzie che servono per giocare nel Milan. Chiher arriva da un infortunio molto serio al crociato in più a una certa età e quando esci da un infortunio all'egamento crociato, quando hai l'età di Chiher, diciamo che non è proprio il massimo. Fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi, commentate e attivate la campanellina per rimanere aggiornati sui nuovi video che usciranno. Noi penso che ci vedremo nel video post partita di Atalanta-Milan. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video, sempre Forza Milan, ciao ciao!